Dottor Ascione, negli ultimi giorni c'è stata una sorta di escalation di truffe ai danni degli anziani. Queste persone vengono contattate. Cosa viene chiesto loro e soprattutto questi truffatori? Che modus operandi usano? Si, si tratta di una truffa particolare. L'anziano viene contattato telefonicamente da un sedicente avvocato che annuncia l'incidente di un parente stretto, solitamente un figlio, che è stato coinvolto in un incidente con un'autovettura senza assicurazione più delle volte. E pertanto propone una soluzione buonaria dell'incidente chiedendo di anticipare una cifra di denaro che avrebbe potuto poi consegnare a lui stesso che si sarebbe recato presso l'abitazione. Ovviamente colpisce l'anziano nei sentimenti, il quale riceve la notizia di un incidente di un parente caro, nel caso appunto il figlio. Il truffatore poi per tranquillizzare e quindi carpire ancora di più la fiducia della vittima, lo invita anche a contattare il numero di emergenza del 113 per riscontrare l'effettiva esistenza dell'incidente. Attenzione perché il più delle volte cosa succede? La telefonata avviene da un'utenza fissa e al termine della telefonata del finto avvocato, il truffatore non conclude la conversazione, pertanto la vittima, l'anziano, convinto poi di formulare l'utenza del 113, in realtà continua a conversare sulla linea telefonica appena conclusa. E quindi dall'altra parte risponde un complice che si finge di essere un operatore del 113, il quale conferma l'esistenza dell'incidente e quindi ancora di più invita la vittima a consentire l'azione del denaro. Ma diciamo che per quanto questi reati siano sgradevoli, comunque ci sono dei metodi per difendersi, cerchiamo di capire quali sono. Sì, intanto in questo caso specifico sappiate che nessun avvocato e nessuna forza di polizia fa richiesti di denaro per comporre bonariamente un incidente come in questo caso. In secondo luogo per fugare ogni dubbio contattate sicuramente l'utenza di emergenza del 113 o del 112, magari utilizzando un'altra utenza, magari un'utenza cellulare. In linea generale diciamo che bisogna sempre diffidare da inviti che vengono posti da sconosciuti, non mandare i bambini ad aprire la porta. Quando si è costretti comunque ad aprire il portone o la porta di casa, insomma farlo sempre con la catenella di sicurezza. Ma ci sono anche altri consigli che si possono dare ai parenti, ai vicini di casa delle persone che rischiano di rimanere vittime di queste truffe? Assolutamente sì. Questo è rivolto in particolare ai figli e nipoti degli anziani che vivono da soli. Quindi se non abitate, non vivete con loro, chiamateli, sentiteli quotidianamente. La vostra presenza li farà stare più sicuri e più tranquilli. Preoccupatevi delle loro esigenze quotidiane. Analoghi consigli vanno dati anche ai vicini di casa. Se nel vostro stabile abita un anziano solo, scambiate quattro chiacchiere con loro, fatevi vedere presenti. Insomma, questo sicuramente li renderà tranquilli. Grazie a tutti.